Siamo ciò che mangiamo e per questo che è fondamentale iniziare ad adottare delle buone abitudini sin da piccoli. Io ricordo sempre quando parlo soprattutto ai genitori che il primo metodo di educazione avviene per apprendimento, quindi i nostri figli ci guardano, i nostri figli guardano come noi ci approcciamo al cibo e quindi il suggerimento è quello sempre di condividere anche i momenti del pasto, ma anche i momenti della preparazione, proprio perché durante la preparazione dei pasti avvengono determinati processi educativi e anche cognitivi fondamentali per iniziare a sviluppare un buon rapporto con il cibo e con l'alimentazione più in generale. Quindi se abbiamo dei figli piccoli cercare di coinvolgerli anche nella preparazione. Non sempre, mi rendo conto, abbiamo tempo soprattutto durante la settimana, ma magari riservarci questo tempo nel fine settimana. L'alimentazione è un vero fattore della prestazione, viene considerata come un marginal gain. I marginal gain sono quei fattori appunto marginali che stanno intorno alla preparazione fisica, quindi all'allenamento vero e proprio, ma concorrono a migliorare la performance finale. Tra questi ci sono ad esempio l'abbigliamento tecnico, il materiale appunto tecnico, la preparazione mentale, insomma tutta una serie di fattori che concorrono a migliorare la prestazione poi finale. L'alimentazione è tra questi, forse oggigiorno è entrata ancora di più nel contesto quotidiano della preparazione fisica. Per quale motivo? La preparazione dal punto di vista nutrizionale infatti può attivare o disattivare quelli che sono gli stimoli allenanti. Vi faccio un esempio, allenarsi a digiuno, quindi senza assumere energia, senza assumere alimenti, sono ad esempio un caffè semplice, può favorire quelli che sono gli adattamenti alle capacità di endurance, come ad esempio la corsa di lunghe distanze, quindi la mezza maratona, la maratona oppure il triatlo nelle lunghe distanze come il mezzo Ironman, l'Iroman o anche il gran fondo del ciclismo. Oppure se noi facciamo al contrario un allenamento per la forza muscolare, in realtà la forza muscolare vuole energia, quindi questi adattamenti si creano meglio quando ha una buona disponibilità di energia, quindi in pratica un consiglio per chi ci ascolta. Se volete fare un allenamento per la forza muscolare, ad esempio non fatelo a digiuno, ma assumete almeno un minimo di energia. Poi ci sono anche degli allenamenti che permettono ai nostri organi digerenti di migliorare quelli che sono gli adattamenti durante l'esercizio. Vi pongo appunto un esempio, allenarsi a stomaco pieno, come ad esempio in alcuni trail lunghi può succedere che si debba per forza di cose mangiare. Pensate alle gare di 50 chilometri oppure alle gare che durano più giorni, come ad esempio al Tour de Jeanne, che è la corsa di 330 chilometri delle alte vie della Val d'Aosta. Quindi ci si deve allenare ad assumere carboidrati in corso esercizio, ma anche alimenti veri e propri. Quindi capite che l'alimentazione diventa un vero e proprio fattore della prestazione, che deve essere considerato al fianco della preparazione fisica. Oggigiorno ci sono tutta una serie di studi scientifici che ormai hanno radici profonde in letteratura sul fatto che la preparazione fisica, o meglio l'esercizio fisico, ma anche la più semplice attività fisica, ovvero il movimento, infatti attività fisica ed esercizio fisico non sono sinonimi, possono migliorare la nostra efficienza mentale. Faccio un esempio, sicuramente in termini di riduzione dell'ansia e riduzione del rischio di insorgenza di situazioni come la depressione, ma anche per migliorare l'efficienza mentale. Infatti alcuni studi mostrano che già dopo 20 minuti, ad esempio di camminata, cioè di un esercizio fisico di tipo continuo, può migliorare quello che è l'afflusso di sangue al nostro cervello, quindi al sistema nervoso centrale, il nostro governatore centrale. Da qui che cosa accade? Che migliorano appunto, migliora la capacità creativa, migliorano le idee, se vogliamo dirle anche in un aspetto più pratico, si riduce l'ansia, quindi riusciamo anche a riflettere, a ragionare con più tranquillità. Questi effetti sono potenziati quando effettuiamo esercizio fisico in un ambiente verde, quindi appunto in natura, come ad esempio i prati, i boschi, proprio perché il verde potenzia questa capacità dell'esercizio fisico di attenuare quelle situazioni di stress, di ansia, che ci inducono a ridurre l'efficienza mentale e al tempo stesso anche a velocizzare il nostro invecchiamento cellulare e fisiologico. Quindi l'esercizio fisico e l'attività fisica sono veramente due strumenti molto importanti per non solo favorire il nostro benessere appunto fisico, come già sappiamo, ma anche quello mentale. L'integrazione alimentare per il Ministero della Sanità, come dice la parola stessa, integra l'alimentazione quotidiana, quindi è considerato sì al pari dell'alimentazione quotidiana, ma è qualcosa che appunto la integra, cioè ci viene di supporto. Quindi prima di tutto voglio ricordarlo, l'alimentazione quotidiana deve sicuramente preferire il cibo fresco. In alcune situazioni però gli integratori, cioè quelle sostanze che ci permettono di assumere solo e soltanto alcuni macro o micronutrienti di cui sorricchi gli alimenti, possono essere di prezioso supporto soprattutto appunto nella preparazione fisica. Vi faccio alcuni esempi per meglio comprendere. Quando ci apprestiamo a una competizione molto intensa o anche un allenamento molto intenso, va da sé che il nostro stomaco, il nostro intestino impiega del tempo per digerire gli alimenti che noi abbiamo assunto. Quindi che cosa accade? Che dobbiamo assumerli con adeguato anticipo. Ma se questo anticipo per diversi motivi non possiamo averlo, ecco che gli integratori a base di carboidrati come ad esempio le barrette, i carbo gel oppure i carboidrati in polvere da sciogliere in borraccia, insomma oggigiorno ci sono davvero diverse forme in cui assumerli, possono esserci di prezioso supporto proprio perché ci forniscono solo e soltanto quel nutriente che ci serve. Un altro esempio, dopo gli allenamenti per la forza muscolare affinché questi si attivano è fondamentale assumere delle proteine, questo lo dice la scienza. Solo che le proteine dagli alimenti non sempre sono così gestibili. Faccio un esempio, dovremmo assumere circa 60 grammi di bresaola o 60 grammi di parmigiano reggiano o di grana padano, oppure 600 ml di latte. Il fatto è che questi alimenti non sono così gestibili ad esempio fuori casa o al tempo stesso anche il volume di questi alimenti non è così gestibile per il nostro organismo. Allora che cosa accade? Che le proteine in polvere, ovviamente di qualità e quindi bisogna rispettare nella scelta alcuni parametri, ci possono essere di prezioso supporto perché sono gestibili ad esempio nella quotidianità, nei nostri trasporti, movimenti, uscendo ad esempio di casa al mattino e facendo esercizio fisico nel tardo pomeriggio e poi ci possono fornire solo e soltanto quel nutriente che ci serve, evitando così anche di assumere altri nutrienti che ad esempio gli alimenti che vi ho menzionato prima sono ricchi come ad esempio i grassi. Oppure durante lo sport, prima, durante e dopo lo sport, ma soprattutto durante, alcuni micronutrienti come i sali minerali, vedi alla voce sodio, potassio e magnesio, sono di prezioso supporto per favorire l'idratazione, quindi mantenere lo stato di idratazione e anche favorire lo stato di reidratazione dopo una grande sudorazione ad esempio. Quindi ricordo che in questi casi la sola acqua non basta. Sicuramente la strategia di aggiungere del sale grosso da cucina ci può iniziare ad aiutare, ma se vogliamo fare qualcosa di più completo senza lasciare nulla al caso, ecco che gli integratori saline sono qualcosa in più. Oppure, ultimo ma non ultimo, quando abbiamo ad esempio due giorni di gare ravvicinati, penso non solo ai grandi atleti, ma anche ai bambini che affrontano dei tornei, oppure comunque ai più giovani, dove magari abbiamo più piccole partite il sabato, bisogna recuperare e quelle più importanti poi ad esempio la domenica. In questo caso, alla fine della prima giornata, un integratore in polvere che ci offre solo e soltanto quei nutrienti fondamentali per iniziare il recupero, può essere di prezioso supporto appunto come dicevo un attimo fa per iniziare ad attivare questo recupero e quindi arrivare al giorno successivo dove ho già recuperato in maniera più efficace. Diversamente dagli alimenti, effettuare questa cosa impiegherebbe un po' più di tempo e quindi ritornare a regime sia a livello energetico che a livello di idratazione che a livello di indolenzimento muscolare sarebbe un po' più difficile. L'alimentazione e lo sport non dovrebbero avere grosse differenze durante le stagioni o meglio come scegliere lo sport o l'esercizio fisico che vogliamo praticare? Indubbiamente a seconda della nostra disponibilità di tempo, quindi non c'è un esercizio fisico meglio dell'altro, meglio magari c'è a seconda del nostro obiettivo ma è una risposta che lascia un po' il tempo che trova. Va da sé che magari nel periodo invernale o primaverile in cui la corsa all'aria aperta è più facile ed estate ormai con le altissime temperature è qualcosa di più complicato a meno che non andiamo a modificare l'orario in cui andiamo ad esercitarci. Oppure ad esempio una camminata o una corsa che effettuiamo durante la stagione autunnale, invernale, estiva ed estate potrebbe essere trasformata in un'attività all'interno dell'acqua, quindi ad esempio una nuotata o un qualsiasi tipo di altra attività immersi in un'acqua più fresca per evitare un eccessivo innalzamento della temperatura. Ma questo comunque è una scelta del tutto personale che non ha delle linee guida scientifiche vere e proprie. L'alimentazione dovrebbe rispondere al nostro benessere ma al tempo stesso anche a eventuali ulteriori carenze. Va da sé che d'estate noi tendiamo a sudare di più. Che cosa accade? Che la sola acqua non basta per reidratarci, questo voglio ricordarlo perché spesso sento degli articoli abbastanza erratei durante l'estate in cui diamo l'importanza a bere due litri, due litri e mezzo di acqua. In realtà questo fattore può aumentare il rischio di iponatremia, cioè la diluizione del nostro sangue, semplifico ovviamente, di eccessiva acqua in cui si vanno a disperdere i minerali più importanti o meglio quelli più concentrati come ad esempio il sodio. La cosa fondamentale è anche quella appunto di ripristinare sia le carenze idriche attraverso il fatto di bere acqua ma al tempo stesso anche attraverso i minerali perché altrimenti la reidratazione quindi l'assorbimento dell'acqua innanzitutto dal nostro cavo intestinale viene meno. Quindi un primo consiglio è quello d'estate di aumentare quegli alimenti che sono ricchi nei principali minerali di cui è ricco il sudore. Quindi il sodio è molto semplice perché il nostro istinto ci porta ad aumentare questo minerale attraverso la ricerca di alimenti più salati oppure aggiungendo sale alle nostre pietanze. La stessa fame istintiva purtroppo non sembra esistere invece per gli altri minerali come ad esempio il potassio e anche il magnesio. Il potassio è molto importante perché è un regolatore anche della pressione sanguigna, quindi ovviamente insieme al magnesio e insieme anche al sodio. Quindi in questo caso il suggerimento è anche quello dopo un'abbondante sudorazione di ricercare alimenti ricchi di potassio come ad esempio le albicocche, l'anguria, il melone, l'avocado, sì le banane ma è anche vero che purtroppo le banane ne contengono una più piccola quantità di quello che dovrebbero contenere proprio per il fatto che vengono colte decisamente premature e poi maturano durante i viaggi. Quindi il consiglio è quello di preferire alimenti che sono di color ad esempio arancione, rosso proprio perché più ricchi comunque di minerali e anche di polifenoli. I polifenoli sono delle sostanze che hanno un'attività antinfiammatoria, antiossidante e soprattutto quelli dell'estate giocoforza ci aiutano anche a proteggerci dai raggi UV a cui siamo inevitabilmente esposti. Primo consiglio, idratarsi. Quindi sin da piccoli abituarci ad avere con noi una borraccia a base di acqua e soprattutto se il nostro esercizio fisico prevede un'abbondante sudorazione ripristinare i principali minerali presenti nel sudore. Come vi dicevo prima ad esempio il sodio e il cloro si possono ripristinare attraverso 4-5 granelli di sale grosso ogni mezzo litro di acqua. Oppure se non vogliamo appunto, cosa che suggerisco, lasciare nulla al caso ma vogliamo ripristinare tutti i minerali presenti nel sudore, i principali minerali, allora suggerimento è quello di utilizzare un integratore salino per sportivi. Un altro suggerimento è quello di iniziare ad alimentarci subito dopo il nostro esercizio fisico. Per quale motivo? Perché a seconda del nostro obiettivo di benessere la mezz'ora o meglio l'ora che segue il nostro esercizio fisico può innanzitutto favorire un recupero più rapido e più efficace rispetto all'assunzione degli stessi alimenti invece effettuata oltre un'ora dalla fine dell'esercizio. Terzo consiglio, eventualmente iniziare a considerare anche come opportunità gli integratori per sportivi, proprio perché ci aiutano a recuperare in modo più efficace soprattutto assumere solo e soltanto i nutrienti cui abbiamo bisogno in quel momento, evitando appunto di assumere altri nutrienti di cui il cibo è abbondantemente ricco. Quindi questi sono i tre suggerimenti base che mi sento appunto di proporre.